Voi sapete benissimo che prendere appunti, cose eccetera giù è complicato, in questo caso diventa complicatissimo, invece tu tranquillamente ti prendi la tua misura, la dici a Davide e dai di registrare i dati che noi possiamo raccogliere in questo percorso. Davide ti aspetta al posto giù e poi decideremo se rimane fino alla fine lì ad accogliervi. Restate leggermente sospesi nel vuoto, dopo di chi mette la seconda qui io già sono in sicurezza. Da questa posizione qui, a meno che non sono pazzi, io ripeto le gambe, scendo giù al fagiolo e non cado. E' impossibile farsi male perché se siamo su tre appoggiate nei bughi, nei bravoli. Sì, sì, sì. Sì, sì. Tira su. Ok, io l'appoggio, la cam, ok? Ti senti Fabio? Marco, Marco? Sì, mi piaceva, se lo lasci un po' lì in modo che vediamo la gente quando arriva, mi piace. Sì, soprattutto faccio scendere qualcuno adesso. Sì, però tu adesso puoi posizionare il carrello in modo da vedere chi arriva. Allora, comunque poi devo chiedere un parere. No, l'utilità di far scendere un po' sempre il comune è che si sta fiorendo. No, è il doppio con me. La via per ultima, adesso. No, l'utilità di far scendere un po' sempre. Beh, così però posso prendermi. Per esempio per fare i lavide corsi. C'è più satiscazione? Così. 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 Grazie a tutti.